Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Probabilmente avete già ascoltato il primo episodio della mandorla, del mandorlo scusate. Adesso invece sentiremo la strana storia della Veronica Persica e di Mahometa Luhm. Prima di appunto addentrarci in tutto questo vi dico già fin da ora. In realtà la Veronica Persica non ha praticamente storia, quindi di fatto forse l'avete già ascoltato nello scorso podcast. Parlerò per il 90% di Mahometa Luhm, anzi parlerò del 99% periodico di Mahometa Luhm. Ci sarà solo un'introduzione iniziale sulla Veronica Persica dovuta perché comunque dovevo parlare di fiori. Però poi voglio concentrarmi bene su questo personaggio che, fra parentesi, l'ha rese di fatto famosa nel mondo. Anche se, continuo a dire, non è un fiore particolarmente noto. Quindi diciamo che da questo punto di vista non è stato un gran pubblicitario. Fatto da sta, addentriamoci perché la storia è ben più lunga, almeno la sua è ben più lunga. Veronica Persica, intanto è un piccolo fiorellino che si trova proprio nei campi, viene coltivato in realtà abbastanza poco, proprio perché pur avendo dei effetti benefici non sono così incredibili, almeno non si pensava fossero così incredibili da essere coltivati, quindi lui nella sua storia è rimasto sempre proprio un fiore dei prati, di origine naturalmente persiana. Ripeto, un fiore blu con un centro bianco che cresce in Eurasia, quindi di fatto in tutta quell'enorme parte di terreno che può essere chiamato Asia Centrale, ma così come Alto Piano Iranico, eccetera. E si chiama Veronica perché ricorda il volto di Santa Veronica, la donna che durante il Calvario di Gesù gli pose, cioè gli porse un panno appunto per asciugarsi, quindi si dice che proprio il ricordo di questa donna, il ricordo della sua dolcezza, della sua bellezza, sia stato chiamato così questo fiore. Fatto sta, Mahomet Al-Lum invece è colui che introdusse nella medicina il suo utilizzo. Mahomet Al-Lum al contrario ha ben più da dire rispetto a la Veronica Comune. Mahomet Al-Lum era... anzi... Mahomet Al-Lum nacque attorno al 1858 a Kandahar, in una famiglia di etnia Pashtun, e in gioventù divenne molto in fretta uno dei migliori venditori di cammelli e di cavalli. Non solo divenne uno dei migliori, ma divenne uno dei migliori tanto da girare sempre di più per tutta l'Asia. Per tutta l'Asia e spingendosi anche in Turchia, eccetera. Ad un certo punto la vita di Mahomet Al-Lum cambiò per la prima volta. E come cambiò? Sostanzialmente gli inglesi stavano reclutando dei cammelli... reclutando... stavano prendendo sempre più cammelli da introdurre in Australia per riuscire sia ad esplorare sempre di più l'interno, sia per di fatto avere degli animali da Soma molto resistenti e che potessero riuscire a portare veramente di tutto nei punti più impervi e che aiutassero, ma non si sapeva ancora perché non c'era ancora, a costruire la ferrovia. E quindi vennero reclutati proprio da diverse parti dell'impero, ma in particolare in Afghanistan che proprio in quel momento era sotto dominio inglese, moltissimi cammellieri fra cui appunto il nostro Mahomet Al-Lum. Mahomet Al-Lum quindi andrà in Australia insieme a tanti altri che, va detto, inizialmente otterranno molta fortuna perché gli afghani effettivamente diventeranno, otterranno il monopolio di Stato di tutti i vari trasporti, ma poi proprio in virtù di questo monopolio vennero sempre più mal visti. La questione sarebbe un po' più lunga e un po' più complessa però almeno così la semplifichiamo. Dopo che venne appunto cacciato fra virulette dal suo lavoro di cammelliere lui provò tutta una serie di mestieri tra i più incredibili al mondo fece il minatore, si mise a vendere tappeti, addirittura avviando una piccola industria ma per via del suo fatto di essere afghano e di essere un momento nel quale gli afghani in particolare erano visti molto male dagli australiani tutti questi lavori ebbero comunque fine abbastanza in fretta. La sua vita cambiò radicalmente all'incirca nel 1938 perché dopo una serie di girovagare per tutta l'Australia finalmente riesce a stabilirsi all'interno di una città una città molto particolare che diventerà poi la città di Mahomet al-Lumov ovvero io lo pronuncio malissimo perché non so come si chiama in realtà in inglese Adelaide Adelaide probabilmente qui aprirà vicino alla moschea locale la sua prima erboristeria anzi la sua unica erboristeria non era uno che si metteva a aprire 100 locali o cose di questo tipo ne apriva una, lui stava lì e quello faceva questa erboristeria appunto si basava per lo più su tutta una serie di tecniche che lui aveva imparato in Persia, cioè scusate in Afghanistan tecniche che aveva imparato dalla sua famiglia e dalla sua cultura e per questo utilizzò proprio appunto erbe medicinali che lui conosceva per cui questa Veronica Persica seppur inizialmente la folla lo guardò con molta tittumanza anche perché questo di fatto era uno che disprezzava i vaccini per dire, una roba che oggi ha, quello è anti-vax poi ero bravissima persona questo però sì effettivamente era anti-vax faceva tante altre cose strane contro fra virgolette la medicina occidentale come lui la chiamava però effettivamente le sue cure erano molto efficaci fate conto che ad un certo punto poi in realtà meno di un anno si arriverà a più di 600 persone che ogni giorno stavano in questa erboristeria solo per ricevere consiglio cioè 600 persone che devi mettere il ticket addirittura ma anche l'ufficio postale fa 600 persone al giorno e perché tra l'altro ebbe tutto questo successo oltre al fatto naturalmente che se vai da un dottore e le cure non funzionano non ci torni ma se funzionano ci torni sicuramente oltre a questo fatto appunto delle cure c'era il suo spirito forse bisogna dire più questo fatto perché Mahomet Allume era veramente un uomo straordinario nel senso che al contrario di quello che avrebbero fatto la maggior parte dei medici soprattutto dei medici con questo volume 600 persone al giorno ragazzi sono tanti anche soltanto un euro da ognuna di queste sono 600 euro al giorno mica male e perché lui non aveva un listino prezzi tutte le offerte erano offerte lui non intendeva mai essere pagato per davvero fra virgolette lui voleva dare il suo aiuto e in cambio ottenere quello che l'altro poteva permettersi in questa maniera c'erano anche moltissimi che erano poveri non potevano permettersi di pagarlo e lui gli curava lo stesso senza nessun problema non solo lui curava addirittura gli aborigeni che è una roba che addirittura stessi australiani è più o meno come dire all'americano ma cura l'indiano pelle rossa no cacciamolo nella frontiera tutto chiuso via questo andava e dava gratis i medicinali agli aborigeni per dire è una roba che a noi sembravamo folli e tra l'altro lui la maggior parte dei soldi che incassava da queste donazioni li donava quindi lui in brevissimo tempo riuscì anche a finanziare moltissimo la comunità islamica locale comprò moltissimi posti al cimitero per tutti i musulmani che non potevano permettersi una degna sepoltura poi diede moltissimi soldi in beneficenza a moltissime associazioni diverse non per forza musulmane tra l'altro e in brevissimo tempo divenne effettivamente sempre più conosciuto tanto che inizialmente circolarono anche moltissime voci negative anche perché vi dovete immaginare un Pashtun orgoglioso delle sue origini quindi un Pashtun che si mette sempre il cappello il turbante cose di questo tipo quindi che non cerca in nessuna maniera di essere simile a un australiano che in tutte le maniere ricorda che lui non si fida della medicina occidentale non gli piace né niente la sua è molto migliore ed effettivamente ha dei risultati incredibili sulle persone viene visto naturalmente male inizialmente e infatti ci sono addirittura nel 35 in realtà prima che lui apra questa famosa arboristeria dei tentativi di farlo arrestare eppure tutte le volte quando poi arriva alla fine dei conti diciamo nel dover capire cosa ha mai fatto male di questo cosa ha mai fatto male di questo non c'è mai nessuna prova non c'è mai niente lui esce sempre impeccabile anzi con la pubblicità in più questa sua questo suo modo di fare questa sua incredibile efficacia lo porterà in pochissimo tempo a diventare sempre più famoso sempre più celebrato tanto che i nomignoli che inizieranno a circolare non saranno più negativi ma saranno delle cose del tipo uomo straordinario benefattore dell'umanità re senza corona questi erano più o meno i titoli poi ad un certo punto per dirvi di fu la grande depressione tutti hanno sentito il momento nel quale per essere chiedi la borsa ha uno schifo totale e iniziano ad esserci problemi economici pesanti lui donò 15.000 sterline ricordiamo che 15.000 non è come oggi erano decisamente di più 15.000 sterline alla città così per aiutarla appunto perché ha visto che era in difficoltà il governo australiano a quel punto provò addirittura a tassare questa sua donazione e lui si offese così tanto proprio terribilmente da un punto di vista anche interiore che disse sostanzialmente se voi volete tassarmi va bene però poi me ne vado e allora il governatore di Adelaide il sindaco di Adelaide dei membri del parlamento australiano e una serie anche di altri grandi figure anche la polizia eccetera australiana firmò una petizione per impedire a Mahomet di appunto andarsene via proprio perché è un personaggio talmente ben gradito che andava a follia questo che se ne deve andare via eccetera no non è impossibile e quindi diciamo lo trattenerò anche lì per quel momento per quel tempo nel 1940 sposerà un'australiana Jane Emsley dalla quale poi avrà anche una figlia e l'anno dopo ci fu questa cosa proprio qua arriviamo a dei livelli leggendari perché sostanzialmente uscì un articolo in Australia che diceva che c'erano due uomini stranieri di cui si parlava veramente tanto in quel momento in Australia Hitler e Mahomet Al-Lum stessa cosa più o meno di fa ma ormai era quello il livello e fate conto che lui appunto starà tutto il tempo in un'estralia salvo partire nel 1953 proprio perché sua moglie era molto curiosa di vedere come fosse l'Afghanistan e aveva già tra virgolette l'idea di convertirsi volendo comunque soddisfare le richieste della moglie Al-Lum nel 1953 partì e andò effettivamente in Afghanistan insieme alla moglie e insieme alla figlia qui ci fu una cosa appunto bellissima per chi ci crede ovvero la moglie si convertì definitivamente seconda donna europea a farlo in tutta la storia dell'Australia dopo che già la segretaria di Mahomet Al-Lum si convertì all'Islam per via della sua influenza solo che la moglie purtroppo morì pochissimo dopo perché erano no vax vaiolo sicura col vax e quindi purtroppo la moglie morì tra l'altro questo successivamente sarà causa della rottura nel rapporto con la figlia che purtroppo è forse l'unica cosa effettivamente negativa e pesante oltre al razzismo che dovete subire all'interno della sua vita a quel punto poi si recò al Hajj in ciò che c'era al pellegrinaggio sacro alla Mecca che è sicuramente più facile da farlo a partire dall'Afghanistan rispetto all'Australia e poi tornò definitivamente ad Adelaide dove visse fino ai 108 anni continuando a portare benefici gioie e salute a tutta la comunità australiana e di fatto portando l'Islam in Australia a un livello di bellezza e di purezza che non si era mai vista e che probabilmente non si vedrà mai più il l'ascido che ci dà Mohammed è qualcosa di straordinario e di bellissimo francamente io solo a leggere nella storia mi sono incantato e mi è venuta la lacrimuccia perché diciamo non c'è niente di triste ma quando io vedo personaggi di questo tipo cioè personaggi che veramente vivono per gli altri ma non che tu dici quello vive per altri ma in realtà è tutto un fine no no è proprio genuino che cioè quando vede il sorriso nell'occhio dell'altro lui è contento è gioioso e sa che ha fatto qualcosa di bene qualcuno che fino a quando c'è l'altro che magari ha qualche problema non può andare a dormire soddisfatto e che ci tiene ogni giorno a mostrare con i suoi comportamenti quello che dovrebbe essere fra virgolette la normalità o comunque dovrebbe essere il modello a seguire io francamente mi incanto in particolare in un momento nel quale veramente sembra quasi che tutti vogliano evitare di farci vedere la positività e che ci vogliano far vedere comunque il mondo grigio con queste brutte cose che accadono e che purtroppo accadono appunto non è che si può fare fin da niente però naturalmente non devono oscurare tutta la bellezza che c'è intorno e io mi incanto e penso che storie di questo genere proprio in questo periodo vadano raccontate con ancora maggior foga e con ancora maggior valore proprio perché sono dei casi umani delle storie e delle storie soprattutto di umiltà così belle che uno dovrebbe raccontare questi quasi rispetto a tante altre figure squalide delle quali ci troviamo molto più spesso a parlare non di attualità naturalmente io mi parlo in generale fatto sta che Mohammed Allum è veramente ciò che c'è di più vicino a un santo dal mio punto di vista forse San Francesco sotto alcuni aspetti è più vicino poi lui non è che adesso non avesse la macchina per dire o ad un certo punto non si fosse comprato l'anello però dipende anche quanti soldi in più ti arrivano per virgolette e se soprattutto la maggior parte è il mood e l'atteggiamento e le idee sono quelle di aiutare gli altri come in questo caso il più è fatto se lo metti in pratica non ci salutiamo ci tenevo francamente a far uscire il venerdì anche perché si inizia a far sentire l'assenza di moschea per me personalmente e avere la storia di un immigrato muslim tanto celebre tanto meraviglioso tanto dolce tanto veramente rappresentante dell'islam almeno per come lo intendo io e ho detto facciamo uscire due episodi facciamo più tardi la sera tanto non è un problema però bisogna parlare di Mahomet Allung noi ci salutiamo e ci vediamo penso domani alla prossima